Siamo con mister Salvatore Utro, allenatore Don Carlo Misilmeri. Mister, una sconfitta che forse non si aspettava così. Ecco, il vostro campionato ha subito una battuta d'arresto e adesso bisogna rincuorare i giocatori, insomma, riportarli. Dovete continuare, siete sempre secondi in classifica. Lei mi diceva che è un momento difficile, come uscirne fuori? Questa squadra ha fatto 14 risultati utili consecutivi, quasi tutto un girone. Adesso abbiamo perso due partite, ci può stare, purtroppo le abbiamo perse in maniera rotonda. C'è un po' di amarezza e soprattutto un po' di rabbia perché io vivo quotidianamente questo gruppo e so come lavorano ogni giorno, con quale cattiveria, con quale intensità, con quale fame. Mi dispiace perché i ragazzi questa settimana hanno fatto una grandissima settimana, nonostante la brutta battuta d'arresto. Quindi non rispecchia quello che avevamo fatto in settimana, la prestazione e il risultato. Però questo è un periodo negativo, succede a tutte le squadre del mondo. C'è un periodo della stagione dove ti gira tutto male. Purtroppo sta arrivando in un momento Q della stagione e dobbiamo essere compatti, uniti, capire come. Perché se cominciamo con i perché diventa veramente un casino. E quindi dobbiamo capire come tutti insieme. Non eravamo dei fenomeni 14 partite consecutive fa, ripeto, non siamo neanche dei brocchi adesso. Ci siamo inceppati un attimino, però... Io mi preoccupo quando una squadra di calcio arriva al campo e durante la settimana non prepara la partita. Quello è preoccupante perché hai un senso di vuoto come tecnico. Io questa percezione con i miei uomini non l'ho mai avuta da quando sono ammisi in merito. Quindi in questo momento dobbiamo ricompattarci, non dobbiamo fare drammi. I risultati sono stati due passivi importanti. però abbiamo la qualità, le armi e la lealtà dei rapporti per riguardarci in faccia e ricominciare di nuovo a pedalare. Sapendo che quando succedono queste cose bisogna andare al campo e lavorare. Vediamo un attimino insieme a loro come abbiamo sempre fatto come risolvere un periodo, no. Però, ripeto, non è che veniamo da 14 sconfitte consecutive o da 9 risultati negativi. Sono state due partite consecutive dove siamo incappati male. Adesso lavoriamo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di ricompattarci non sposando nessuna cultura di alibi perché alibi scusanti non bisogna trovarne mai. ma bisogna capire come, tutti insieme.